numero 6 questa confezione contiene un bellissimo pallone da calcio in simil cuoio con un uovo di cioccolato al latte da 150 grammi il pallone viene spedito sia con disegno a strisce che disegno a stelle secondo la disponibilità del magazzino bellissima idea regalo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 5 la confezione contiene un bellissimo pallone da calcio in simil cuoio con disegno della tua squadra preferita ed un uovo di cioccolato al latte da 150 grammi prodotto in italia dalla ditta fratelli prisco all'interno dell'uovo c'è un simpatico regalo originale idea regalo per i più piccoli il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 4 uovo di pasqua del napoli prodotto dall'azienda crispo cioccolato finissimo al latte 350 grammi di bontà all'interno troverai una sorpresa personalizzata della tua squadra preferita se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 3 la confezione contiene due bellissimi palloni uno da calcio misura 5 ed una palla misura due entrambi sono in simil cuoio le due confezioni contengono due uova di cioccolato al latte da 150 grammi l'uno le uova sono prodotte in italia dalla ditta prisco ottima idea regalo in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 2 uovo di cioccolato al latte artigianale da 350 grammi della sampdoria il regalo ideale per festeggiare la pasqua all'interno dell'uovo troverai una fantastica sorpresa personalizzata della tua squadra preferita all'interno potrai trovare una t-shirt o una tazza o uno zainetto o un polsino acquistando l'uovo potrai partecipare al concorso per vincere un fantastico hoverboard trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 uovo di cioccolato al latte artigianale da 350 grammi della juventus senza glutine il regalo ideale per festeggiare la pasqua all'interno dell'uovo troverai una fantastica sorpresa personalizzata dei bianconeri all'interno potrai trovare una t-shirt o una tazza o uno zainetto o un polsino scegli la tua squadra preferita tra le varie opzioni se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione il link in descrizione